Ben trovati amici di Media24, secondo appuntamento con il consigliere regionale Fabiano Barbisan per affrontare oggi i temi più generali dell'economia del nostro territorio. Io volevo partire, consigliere Barbisan, da un tema che abbiamo affrontato l'altra volta, perché quando parliamo di economia dobbiamo parlare di infrastrutture prima di tutto, no? E tornare un attimo sul tema dell'autostrada. Proprio in questi giorni la fondazione Think Tank ha in qualche modo suggerito, sollecitato la soluzione Genova per il completamento del ponte di Genova, per il completamento dell'A4. Ma io vorrei capire una cosa, il problema del completamento di questa autostrada è questione di burocrazia, di pratiche, di iter amministrativi o è questione di soldi? No, innanzitutto buongiorno a tutti i telespettatori e buongiorno anche a lei. Grazie, buongiorno. A mio avviso, come si può dire, io metto lì un esempio, no? Buongiorno, dunque il ponte della libertà di Venezia è stato fatto in due anni, quindi due anni un'opera tale nella laguna, nel fata che ancora oggi è attuale e così via, una struttura, un'idrovora, quelli che adesso sono i consorti di bonifica, in un paio d'anni si faceva la bonifica e si faceva la struttura, cioè le pompe, la struttura diciamo fisica per estrarre l'acqua e rendere il terreno coltivabile. Oggi non si fa più e se uno si mette a pensare che per esempio le discussioni sul tagliamento, nostro fiume qua vicino con tutte le problematiche annesse a questo fiume sul quale io sono da un po' di anni che mi batto perché vengano prese delle decisioni diciamo importanti e definitive per metterle in sicurezza e sono 50 anni oltre dall'alluvione che si parlano di progetti, che si parla di fare qualcosa, bacini, dighe, cioè qualcosa per metterle in sicurezza e non si fa niente. Quindi a mio avviso non sono i soldi che mancano ma è la burocrazia, cioè l'Italia nel dopoguerra ha messo in atto un sistema di leggi su leggi, leggi su leggi, vincoli e quant'altro e questo va a penalizzare fortemente la vita dei cittadini ma anche e soprattutto proprio le opere importanti, le opere di messa in sicurezza. Allora io con questo non voglio discutere che le valutazioni ambientali non vadano fatte, non voglio discutere che i beni architettonici e quindi coloro che sono preposti per valutare non vengono fatti, però va individuato e trovato, io parlo da imprenditore, un sistema perché sia snella questa situazione. Siamo anche nei tempi, nella epoca dell'elettronica, a mio avviso si può fare molto più veloce. Quindi io penso che lei sia d'accordo sulla proposta, sulla sollecitazione che i governatori regionali hanno fatto di affidare alle regioni il compito di coordinare la progettazione correlata al PNRR. Sì, allora anche qua le competenze sono statali perché l'Italia è un paese che fa parte della comunità europea, 27 paesi e la comunità europea ha messo in atto questa forma di aiuti, di finanziamenti, sull'onda del Covid che ha fermato praticamente l'economia europea per un paio d'anni. Riprendere non è facile. Dopodiché ci sta la gente, quindi gli aiuti, in qualche modo lo Stato individua le regioni e anche qua ci sono già regioni a statuto speciale che hanno una marcia in più, hanno una caratteristica in più, quella di poter decidere più autonomamente certe spese e ci sono le regioni a statuto ordinario che sono 15 su 20 in Italia. Io penso, facciamo l'esempio del Veneto, oramai è acclarato nei giornali che il PIL del Veneto praticamente raddoppia quello italiano. Diciamo che l'Italia è molto meglio della Germania come PIL ma il Veneto raddoppia quello italiano. Quindi vuol dire che anche la gente ci crede e va avanti a testa bassa a lavorare, a produrre perché il prodotto interno lordo vuol dire che poi diventa un prodotto vendibile, quindi da mettere sul mercato. Pur con i costi incerti che ci sono, perché ci sono delle materie che sono lievitate, c'è stato un po' di ritorno, l'energia io non credo che torni indietro più di tanto perché oramai si stabilizza su quei valori. Mi piace pensare che la nostra gente, il popolo a partire anche dal Veneto, Lombardo, Friulano, sta lavorando alacremente perché il loro benessere, la loro voglia di crearsi un guadagno, di crearsi una sicurezza con la famiglia, i figli che magari entrano nell'orbita del lavoro che faceva il padre, quindi una continuità è classico del Veneto questo modo di fare. Io sono fiducioso, non sono mai stato un pessimista. Vediamo un po' i temi di casa nostra, i temi economici che investono più da vicino il nostro territorio. Partiamo dal tema principe, quello turistico, perché questo è un territorio a forte vocazione turistica. Quest'anno le cose sembrano essere andate bene, anche se molti operatori si sono lamentati proprio per il caro energia che ha in qualche modo compromesso i risultati economici della stagione. Dalla sua osservatorio, lei come ha visto questo campo di attività? A mio avviso il turismo è un settore trainante, economicamente importante perché il litorale dà lavoro alla gente e alla gente che dall'entroterra va a lavorare nel litorale e quindi ne trae il giusto guadagno su un'occupazione. Poi non dimentichiamo anche il settore agricolo, il settore primario e non a caso… Ci torneremo dopo. Si chiama primario, ma quindi no perché a mio avviso va legato al settore anche del turismo. Cioè la gente viene per il sole, per l'acqua, per i servizi che gli operatori turistici, alberghi e quant'altro offrono. Viene però anche per scoprire che a tavola si mangia bene, a tavola c'è una sicurezza alimentare e insomma ci sono delle caratteristiche che fanno fiorire attività agriturismi, attività di ristorazione e quindi tutto quanto viene legato alle milioni di presenze del turismo del litorale. Io la vedo in maniera positiva e penso che quest'anno gli operatori turistici sono stati soddisfatti, che si continuerà su quest'onda, perché pur avendo magari una diversità da noi alla Croazia, però i popoli che vengono, che hanno individuato le nostre spiagge, voglio dire anche per una sicurezza e una simpatia della gente, degli operatori. E anche per una qualità dei servizi, credo. La qualità l'ho detto prima, ma anche la simpatia e l'accoglienza da parte dei nostri operatori. E sulla direttiva Bolkestein? Questa va messa in atto perché anche qua unendo l'Italia, l'Europa e lasciando quindi la possibilità, libertà, che ci sia una gara europea, mettiamola così, dei concorsi europei per andare ad acquisire le spiagge, cioè la locazione delle spiagge che il demanio fino ad oggi è adatto alla nostra gente, ma potrebbe succedere che ci siano degli altri operatori che vengono nel territorio. Io sarei per un po' di protezionismo. Lei sarebbe un po' per un po' di protezionismo. Ma d'altra parte il problema, il principio è che gli operatori delle nostre spiagge sono sostanzialmente dei concessionari di un demanio, del demanio pubblico. Quindi diciamo che il principio della gara in qualche modo è un principio che ha una sua logica. Certo è vero anche che i nostri operatori storicamente hanno contribuito a lanciare turisticamente e quindi anche economicamente questo territorio. Quindi si tratta di tenere in equilibrio questi due aspetti. Delle spiagge, dei territori, dei luoghi che erano allo stato brado, che erano sconosciuti, che erano inutilizzati, i nostri operatori li hanno messi in uso e se oggi sono diventati appetibili è proprio grazie a questi operatori. Allora andare a togliere a questi operatori l'attività per cui questi sono diventati tali mi sembra che non sia una cosa giusta, che non sia equa. Dopodiché spero, penso che l'Europa, l'Italia partecipa anche nel Parlamento, che siano un po' campanilisti, che siamo un po' gelosi di quello che stiamo facendo e di quello che abbiamo fatto. Tornando al tema che lei prima aveva anticipato, cioè il tema anche dell'agricoltura, della gastronomia eccetera, effettivamente si sta scoprendo che non ci sono soltanto le spiagge ma c'è tutto l'entroterra, che è fatto di tradizione, che è fatto di cultura, che è fatto di arte, che è fatto di cibo, che è fatto di tante cose. Quindi il turismo va visto in una forma coordinata, non c'è soltanto un aspetto del turismo, ci sono tante cose che vanno messe insieme, che vanno coordinate. Io quest'estate mi è capitato spesso, passeggiando per Portogruaro, di sentire tante lingue straniere che passavano per il centro della città. Quindi vuol dire che questo è un tema che ha una sua forza anche da un punto di vista economico, per il commercio, per tante altre cose, no? Posso fare, tecnicamente parlare, faccio un esempio così, in maniera molto chiara. Parliamo del grano, no? Sì. Allora, il grano che da una parte c'è del grano idoneo per fare il pane o fare biscotti, cioè in base alle caratteristiche del grano, poi c'è il grano duro che è quello che serve per fare la pasta. Ecco, da noi si produce tutto, cioè tutte le varietà. Perché questo, voglio parlare di questo? Perché sempre più spesso si sente parlare, ma vietiamo il glifosate. Il grano è un'erbicida che serve per essiccare, diciamo, le piante e per far sì che nella perdita d'acqua, quindi essiccazione, le piante non cadano, non si affloscino e quindi renderle utilizzabili, diciamo, dalle macchine, dalle mietitrebbie che vanno a fare la raccolta. da noi non si usa, da noi non si usa, cioè non esiste da noi l'uso del glifosate nel grano. Ma e perché se ne parla? Perché non si usa e se ne parla? Perché da noi, il Signore, dico, ci ha messo una latitudine, ci ha dato delle caratteristiche ambientali, per cui col sole, con la temperatura, col luogo dove viene seminato e coltivato questo prodotto, si essica da solo. Ci sono altri paesi che hanno estensioni enormi, dove per latitudine il sole non arriva ad essiccare il prodotto e questi usano questo glifosate per essicarlo. Salvo dopo nel mercato mondiale del grano e gira dappertutto. Ecco, allora dobbiamo prestare attenzione perché a volte conoscendo poco le dinamiche o non pensandoci soprattutto, avendo la mente conoscitiva su quello che succede, si fa di tutta l'erba un fascio. Da noi il glifosate si usa per pulire le sponde dei canali, lo usano i consorti di bonifica in sostanza. In altri paesi lo usano per essiccare il grano e questo è un dramma, perché non si deve usare quel grano ma neanche per l'uso tecnico. E quindi va prestata attenzione alla tracciabilità, all'etichetta, a quello che c'è di veritiero che i negozi vanno a vendere, a proporre alla gente. Quindi c'è una qualità dei prodotti che... C'è una qualità superiore... C'è una qualità superiore e anche questo può essere un elemento attrattivo, perché insomma il prodotto italiano è un prodotto che da questo punto di vista... Siamo invidiati nel mondo proprio per queste caratteristiche, tant'è che noi adesso abbiamo in essere, parlo noi come settore carne, ma anche settore uova, latte, cioè diciamo la produzione del settore primario, anche il pesce, abbiamo in essere un marchio che sarà, sta facendo il suo iter, già autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, ma farà il suo iter e sarà la sua presenza nei supermercati, negli ipermercati. Cos'è che lo frena? E' chiaro, dove non c'è marchio c'è l'anonimato e il prezzo lo decide chi lo mette e lo pone in vendita. Dove c'è un marchio non c'è più l'anonimato e il prezzo dobbiamo mettersi a tavolino a ragionarsi su, parlo del prezzo di fornitura. Parliamo un attimo delle nostre marinerie, l'eurodeputata Rosanna Conte è molto impegnata in Europa su questo fronte per difendere in qualche modo l'attività dei nostri pescatori. Ecco, dal suo osservatorio lei come vede la situazione della pesca nella nostra zona, nei nostri porti, nei nostri territori veneti. Sì, è un altro settore importante perché ricordo, se non ricordo male, ma è così, Chioggia ha la più grossa flotta di pescherecci dell'Adriatico. Non so se d'Italia addirittura. Chioggia. Il pesce che raccogliono, che pescano, che traggono dall'Adriatico è un pesce che è diverso da pesci che sono in altri mari. Insomma, lo si sa e si vede. Allora, dobbiamo pensare una cosa. L'onorevole Conte, che è da Caorle, mi risulta anche che cura un po' il litorale. Sì, è molto impegnata su questo fronte. Su questo fronte. Ha le dinamiche, ha le conoscenze e ha soprattutto le richieste dei pescatori, perché anche qua è un settore molto caratteristico e di estremo valore, e che lei gli dà delle risposte. Non so parlare, io non è che sia un profondo conoscitore, ma vedevo nelle dimensioni delle vongole, per esempio, qualcosa che andava messo a segno. Perché? Perché nei nostri mari, nel nostro territorio, le vongole sono più piccole che in altri mari dove hanno magari anche alimentazioni diverse. Certo, certo. Io posso dire una cosa senza paura di scandalizzare. Le vongole, come tutti quanti, quel tipo di molluschi, sono praticamente il filtro delle acque, no? Certo. E quindi nell'acqua pulita ci sono caratteristiche che magari in altri mari, in altri continenti hanno altre caratteristiche. Senta, il Presidente della Confartigianato di Portogruaro, facendo un po' un punto della situazione del comparto, ha rilevato che nel Veneto orientale le cose non sono poi andate così male. C'è stato anche un aumento del numero degli addetti, circa 4 mila, una cifra di questo tipo. Quindi vuol dire che anche qui nel Veneto orientale, tutto sommato, l'economia ha tenuto da questo punto di vista, anche nel manifatturiero. Sì, quello che si diceva prima è un po' la forza della nostra gente, la forza di un popolo Veneto che ha una storia, che ha delle radici, adesso non mi metto qua a tediare gli ascoltatori con la storia di Venezia, ma 1600 anni di storia, dove si dice di commercio, di contatti e di conoscenze, perché diciamo anche un altro aspetto, che la gente veneta è andata a creare le bonifiche nel mondo. Dove ci sono le bonifiche importanti, se si va a vedere si parla Veneto. e quindi è la nostra gente, la nostra gente non si ferma di fronte a nulla, cioè rispettosa di quello che sono le norme, le leggi, poi dopo di che si parte e si riparte. Si cerca di andare avanti così, creando quindi un prodotto lordo vendibile che ha un coefficiente superiore al resto dell'Italia e siamo qua. Quindi anche la nostra area è stata toccata pesantemente dal Covid, dalle regole di blocco, però insomma si risorge, siamo un po' ottimisti, ecco un po' tutti. Ecco, cosa si sente di dire ai nostri telespettatori e alla comunità del Porto Urgularese, la comunità del Veneto orientale? Chiudendo proprio con l'ottimismo che appena lei ha citato prima. Io penso di avere degli obiettivi, ben innanzitutto di starsene adesso tranquilli, di stare con le famiglie e di cercare di non dormire ma riposare e preparare, ricalibrare quelle che sono le forze, a partire dall'intelletto, le forze produttive. E cercare, come stiamo cercando, che i figli seguano l'attività del padre, naturalmente modificandola, adattandola alle contigenze dell'attualità, però insomma siamo della gente che ha delle idee, diciamo che sono venuto a conoscenza anche, abbiamo della gente qua che si è inventata e sta avendo successo, fa il mojito con la betoniera, migliaia e migliaia di Mojiti e si gira dappertutto Europa con i camion a fare questa cosa. E sono veneti, sono da qua. Grazie, grazie consigliere Barbisan, grazie per il suo impegno politico e amministrativo. Noi ci vedremo, ovviamente continueremo a parlare di Portogruaro, del suo territorio, del Veneto, insomma continueremo in qualche modo ad approfondire e a discutere insieme dei temi che interessano più da vicino il nostro territorio. Vi ringrazio dell'attenzione e vi do appuntamento alla prossima trasmissione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.